Un uccello vola Un uccello vola Io qui vivo ma lui può vedere Che succede nel mondo Vedere ferite di una guerra Lui non si sa spiegare ma capisce il dolore Vede l'operaio che lavora e suda E anche se cinguetta solo vede la sua fatica Poi si cala sopra un albero E cinguetta per non protestare E cinguetta per non protestare Quando dal fucile di un cacciatore Un colpo parte che lo fa Che lo fa tace Eeeh 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 Nota per il suo bellissimo santuario e per la sua architettura curiosa, Monte Sant'Angelo, nel Gargano, guarda il mare ma non lo tocca. Esclusa dal turismo balneare, esclusa dall'industria, morente l'agricoltura che prospera solo in luoghi meno aspri, Monte Sant'Angelo vegeta, merita solo qualche fotografia da appendere nei treni, perché veramente è bellissima e singolare. E singolare è la sorte dei suoi abitanti e dei figli dei suoi abitanti. Chi di voi ha il padre che lavora lontano? Io, in Germania, in Germania, in Germania, in Germania, in Germania, in Germania, io in Germania, tutti in Germania. Permesso? Buongiorno. 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 Questa è una quarta? Una quarta, mi scrive, sì. Io adesso vorrei così fare una domanda. Alzi la mano, chi di voi ha il padre che lavora lontano, all'estero o in Italia, lontano? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Infatti sono sette, giusto? Otto. Ho contato male. Dov'è tuo padre? In Germania. Da quanto tempo? Due, tre anni. Mio padre sta in Germania. Tu? Mio padre sta in Germania. Tieni giù la mano, non c'è bisogno che la tieni sempre scusa. Da quanto tempo è via? Da 12 anni. Da? Ma tu quanti anni hai? 10. Da quanto tempo? È nascito a 6 anni. Anche tu lo vedi molto poco? Eh. Tu papà dov'è? In Germania. Anche lui da molti anni? Sì, da 12 anni. Tu quanti anni hai? 10. Allora quando tu sei nato lui era già in Germania? Sì. Com'è tuo padre? Già, alto. Tu mi sai dire com'è tuo padre? Sì. Com'è? È robosto. Come sei elegante? Giacchetta, cravattina, vieni sempre così elegante a scuola? No. E allora oggi perché sei così elegante? Perché è festa. È festa, no non è festa. Sì, è festa, no non è festa. Com'è tuo padre? È l'auto. Poi? Poi sono andato. Tuo papà dov'è? In Germania. Da molti anni anche lui? Sì, da 7. Dove lavora? In Germania. Anche lui da molto tempo e via? Sì, 7 anni. Anche tu sei elegante oggi, eh? Sì. Per Sant'Antonio? Sì. Ah, vi siete messi tutti eleganti per Sant'Antonio. Dov'è tuo padre? In Germania. Da quanto tempo? Da 10. Com'è tuo padre? È un po' basso. Tuo padre dov'è? A Molto. Cosa fa? Il contadino. Il? Il contadino. Ah, e dove lavora? Vincino San Giovanni. Ma che cosa coltivate qui? Molte cose. Molte cose. Senta, un bambino mi ha detto che il suo padre fa il contadino. Sì. Ma l'agricoltura qua intorno? Non esiste, non esiste. Più che, diciamo, qui finché c'è stata un'agricoltura patriarcale, si potesse, diciamo, si è vissuto, ma non sarebbe il termine esatto. Hanno tentato di non morire. Oggi è scomparso completamente l'agricoltura. Io penso che sono 6.000, diciamo, sui 29.000 ettere di coltivate ce ne saranno sia no 10 o 15, almeno nella parte completamente montana. Cosa stavate facendo? Stavamo correggendo i compiti. Chi di voi ha il papà che lavora lontano? Lontano, lontano da Monte Sant'Angelo. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, dodici. Dove lavora tuo papà? In Germania. Che cosa fa? Lo sai cosa fa tu? Spazzino. Tuo papà dove lavora? Sotto le miniere, in Germania. Dove lavora tuo papà? In Germania. Lo sai in che città? No. Che lavoro fa, lo sai? No. Tu lo sai cosa fa tuo papà? Lo fa il postino. In Germania? Sì. Distribuisce le lettere tedesche, lo sai il tedesco lui? Sì. Papà cosa fa? Lavora in Germania, sta in ponderia. Chi è che ha il papà ancora che lavora fuori? Faccio una cosa. La gattina. Tu, dov'è? Germania. Cosa fa? Lavora dai tre picchi. Lavora? Ai tappeti. Ai tappeti? Cosa fanno i tappeti? E li pulisce per le spazio, dalle frattorte. Dove lavora tuo papà? In Germania. Cosa fa, lo sai? Trasporta i bacchi alla stagione. Dove? A Stuttgart. Anche lui è in Germania, papà tuo? Sì. Cosa fa? Lavora, mi ferro in officina in Germania. Dove lavora tuo papà? In Germania. Cosa fa? Muratura. È tanto tempo che vi è? Tredici anni. Tredici anni? Ma tu quanti anni hai? Dieci. Di cosa sono poesie queste qui? Sì. Eh? E sai memoria? Questa la sai a memoria? Me la reciti? Nostro lavoro quotidiano. Se tu lavori con gioia nel cuore, il lavoro non besa. Se tu pensi che il lavoro è un granello di sabbia che si aggiunge nel cuore, tutto è il lavoro. Anche il lavoro è più duro e leggero. Se tu pensi che Gesù ha battuto chi odia essi con mani divine, tu ti senti a lui più caro. Se tu pensi che l'ape lavora, l'uccello lavora, ogni essere nel mondo lavora, tu ti senti sola creatura. In perfetta armonia col creato. Buongiorno. 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 Come è? Partite per la Germania? Sì. Abbiamo partito con la Germania. Tutti in gruppo? Tutti in gruppo. Una macchina? Sì. Di chi è la macchina? È un passaggio, come si chiama? Uno di voi? No, no, no. È una pagina a noleggio. A dove andate? A Foggia? A Foggia, sì. A Coltrino andate in Germania? Sì, sì. Dove andate? Mainz. E le famiglie le avete già salutate? È una brava. Forse le devo salutare. Da quanti anni hai in Germania? 12 anni. Eh? 10. Ma questa è una città senza uomini, perché a un certo punto partono tutti. Ci sono i previ. È quasi. Ci sono i previ. a parte anche lei? Sì, a parte lei. Sì, sì. Dove va? Germania. È contenta di partire? Sì. Un po' preoccupata? Sì. È contenta di partire, è contenta di partire, ma in Germania no. Ma è meglio portarla che lasciarla qui? È meglio portarla, è meglio stare qui, perché è meglio una maniera e meglio in altra, perché danno ci capisci la lingua. Ma è lei che ha voluto venire? Sì, sì. Lei non voleva portarla? No. Ah, sì. Ha insistito tanto, la fine ce l'ha fatta. Allora, non vedi la fine ce l'ha fatta. La fine ce l'ha avuto da? La fine ce l'ha avuto... La fine ce l'ha avuto? Scriviti. Questa è la fine ce l'ha avuto? Scriviti. Il decreto. Scriviti. 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 Questa è il governo italiano, che fa queste cose. Lei è sindaco e anche maestro, signore assessore, e anche maestro di Monte Sant'Angelo, io sono venuto qui nel 1953 e ho trovato dei vecchi seduti su questa balaustra qui. E ho chiesto ma qua su di che cosa vivete? E mi hanno risposto di ossigeno. Adesso tornandoci mi sembra di poter dire di emigrazione. Di emigrazione in parte, prevalentemente di emigrazione. Ma questa emigrazione è di data recente o c'è sempre stata? C'è sempre stata, c'è sempre stata, anche prima della guerra ultima e nel passato questi nostri concittadini andavano a lavorare nel tavoliere oppure andavano nella Lucania, nella Sardegna come boscaioli. Però le famiglie erano meno divise allora perché... Erano meno divise, certamente erano meno divise. Adesso è un poco più lontane e quindi c'è un certo disgregamento della famiglia. Sebastiano, tuo papà quante volte lo vedi a Rai? Due, tre. Hai partito che avevi due anni? Un anno. Un anno. Un anno? Un anno. Adesso ne hai dieci. Sì. Allora si può dire che l'hai visto una vecchina di volta? Sì. Ma lei e il suo figlio, ogni volta il figlio lo troverà un po' cambiato? No, alle volte non li conoscono troppo. Li chiamano e non li sentono. Sì. Sebastiano, mi dispiace che il papà è sempre pieno. Lei ha cinque figli, qui ne manca uno. Sì. e due sono nati prima della sua partenza gli altri sono nati dopo in Germania come sta? a dormire, dormo, noi togliamo nelle barracche ah nelle barracche sei persone ma i rapporti con i tedeschi come sono? non si può dire perché sono nel lavoro nella vita vi ignorano nella vita? si si non veramente non avete rapporti d'amicizia? io non ce l'ho quanto guadagni avrei adesso? adesso sono 250 milioni e quante ne spendevi per i viventi? quelli che ci vogliono adesso il vivere è un loro ma le guadagni come stipendio? no non come stipendio 250 milioni non fai poco? si si hanno col cotto compreso il cotto altrimenti sarebbero appena 100 milioni allora devi lavorare molto 12 ore al giorno 12 ore al giorno? si tutti gli italiani lavorano così tanto? beh quasi tutti ma insomma quante ore fa la settimana? media 68-65 ma lei potrebbe se volesse far venire la famiglia? Germania? si non è possibile perché non mi sono alloggi a me per noi qual è il momento più triste della giornata? sabbale e domenica si partiamo? come te la immagini la Germania? non è troppo bene come? non mi sembra è una vita fatta di lettere e qualche visita e ci troviamo soli franno due lei per il futuro cosa pensa di fare? si è stimato qui e trovato un lavoro qui comunque si cosa faceva lei prima da la Germania? il cordaio dove è il cordaio? anche sotto qui nelle grotte? si è lì è questo il lavoro che faceva tuo papà si perché non lo fa più? perché non lo guadagnano prima lo facevano tutti qui a Monte Sant'Angelo e adesso non lo fanno in pochi? si in pochi perché sono andati in paesi sono andati in paesi ah si? perché? inizia di investire con la campagna con tutto motorizzato tutto motorizzato quello che si fa è tutto capitale perché siamo anziani con chi ha parlato adesso? per ragazzi i ragazzi attaccato Oh, come va, come va. Ma non ti stanchi a girare sempre così? Vai a scuola? Quando? Che classe fai? Quanto guadagni qui? 200 lire A mezzo giornale Quanti anni hai tu? 9 lire 9 lire Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Giuseppe, papà quando è venuto l'ultima volta? L'ultima volta? Sì. Dalla Germania? Sì. È venuto... A Natale? No. A Natale non è venuto? L'anno scorso. E poi adesso? Sì. Ma quante volte lo vedi tuo padre all'anno? Una volta all'anno. E da quanti anni sta via? Cinque o sei anni. Non lo vedi quasi mai allora? No. Ma tu sei molto triste che lavori in Germania? Sì. Dove lavora lo sai tu? In Germania, a Nürburgring. Che lavoro fa lo sai? Manuale di Matteo. Tu gli scrivi qualche volta? Sì. E lui ti scrive a te, proprio a te? Sì, qualche volta che scrive alla mia madre. Mi manda dire pure qualche parola a me. Senti, quando viene gli parli, fate conversazioni insieme? Sì. Che ti racconta? Eh, mi racconta come vado alla scuola, lui che cosa fa... Ma lui è anche molto triste di lavorare in Germania? Sì. Adesso è venuto per votare? Sì. Quanti giorni ha avuto? Dieci giorni. E riparte domani? Dopodomani, lunedì. E poi ritorna quando? A Natale. E questa è la vita, una volta all'anno. La famiglia così non si gode mai? Eh, questo è che vorrebbe dire una buona volta per sempre, ma purtroppo non è la prima volta che me ne vado. Ho fatto otto anni di vita militare. Otto anni di vita militare? Otto anni di vita militare. Sei anni sono stato in Grecia, due anni sono stato prigionieri in Germania. E per dirti la verità, l'odiavi i tedeschi. Proprio, l'odiavo e non volevo andare perché ho sofferto due anni di cambio di concentramento. Purtroppo sono stato costretto nel 64 a migrare un'altra volta in Germania. Non è molto allegro? È allegro. Lontano dalla famiglia, stai sempre preoccupato. I bambini, descosti dai genitori, perdono sempre anche il dominio. Quando viene a casa, restano come bambini, come vorrebbe dire. Non hanno nemmeno il coraggio di avvicinarsi al padre. Ma tu c'erai il coraggio di avvicinarsi al padre? Sì. Ci pensi spesso per fare? Sì. Cosa gli scrivi? Lo scrivo se sta bene, poi quando ritornerà. Tu da grande cosa vuoi fare? Vorrei fare il giocatore. Il giocatore di che cosa? Di calcio. Di calcio. Riesci a mettere da parte i soldi per tornare a stare qui? Beh, no, i soldi per tornare a stare qui. Per mantenere la famiglia. Ci sono cinque persone che non lavorano. Solo a lavorare, cinque a mangiare. Nessuno lavora, neanche i grandi? Il grande, uno sta a fare il corso in Sicilio e non meno quello guadagno niente. Che lavoro? Che corso? C'è un corso con la chimica della fabbrica per macchia. Lei non pensa di poter un giorno tornare a stare qui? Beh, io, quella avrebbe la speranza. Ma purtroppo questa speranza sarà quando ci facciamo a 65 anni. Qual è il tuo desiderio più grande? Beh, il mio desiderio più grande è di far mettere una fabbrica a macchia e di non far andare più mio padre in Germano. Il mio desiderio più grande è che noi diciamo che portiamo la civiltà all'altro paese, all'altra parte. Ma abbiamo passato il fascismo, abbiamo passato la democrazia, stiamo passando tutte cose. Abbiamo le strade ancora senza acqua e senza fogna, le case senza acqua e senza fogna. Questo è il più desiderio. Il lavoro più importante che il governo si decidisse una volta di portarci i lavori qua, nella base Italia, di darci il lavoro a noi, perché siamo stanco di stare all'estero. Oramai sono otto di vitabilitare e sette sono quindici anni e uno che ha lasciato quindici anni alla famiglia e voglia vedere la sua gioventù dove sta. Tu non vuoi da lavorare all'estero? Vuoi lavorare qui anche tu? No, voglio lavorare al mio paese, cioè a Monte Sant'Anzio. Questi bambini che hanno il padre sempre all'estero, cioè che sono privati della figura paterna in casa, sono diversi dagli altri? Sì, sì, c'è una differenza, c'è. Diciamo, nella loro formazione, nella loro educazione, manca qualche cosa. Manca. Si nota la mancanza, diciamo, dell'autorità o dell'affetto paterno? Si nota. In questa inchiesta io ho constatato che la figura del padre, della famiglia italiana, va scomparendo a tutti i livelli. Nelle famiglie borghesi perché non si capiscono più padre e figli. Nelle famiglie operarie della città perché il padre lavora lontano, vai, viene, è stanco, la sera non parla. Nelle molte famiglie, come qui, il padre è emigrato, lavora all'estero. E questo mi sembra il fatto più saliente della modificazione della società italiana. Credo che questo influisca sulla formazione dei bambini. Sì, sì, certamente. In che senso? Perché, ripeto, qui che il ragazzo era molto, diciamo, nel passato, io vedo, diciamo, nell'esperienza didattica, era molto attaccato specialmente al papà. Oggi si parla solo di mamma. La famiglia talvolta non si disgrega definitivamente con questo spazio del padre? Sì, indubbiamente sì, 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 si disgrega. Perché noi qui, per esempio, abbiamo il penosissimo fenomeno di quelli che vanno sotto il nome di vedove bianche, cioè moltissimi, i quali lasciano il loro ambiente, qui vanno in tutt'altro ambiente, sono un po' attratti dalle novità, abbandonano completamente le famiglie, non scrivono più, abbiamo casi tragici, qualche odio. Buonasera. Oggi è festa qui. E questo sì. Perché è Sant'Antonio? E' sua figlia? Sì. Quanti figli ha? Quattro. Questa è casa sua? Sì. Ha suo marito di lavoro in Germania? In Germania, al Belgio. E' tanto che è partito? Sono due o tre anni, ha preso due tre anni. E' tornata? E' tornata, ma è stata con un'altra donna. Non è mai tornata? La scrive? Non scrive niente, dice ha lasciato. Articolo 143 del codice civile. Il matrimonio impone ai coniugi l'obbligo della coabitazione. Articolo 144. Il marito è il capo della famiglia. La moglie segue la condizione civile di lui ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque gli creda opportuno di fissare la sua residenza. Articolo 145. Il marito ha il dovere di proteggere la moglie e di tenerla presso di sé. Conclusione. Un sistema economico che costringe i padri a vivere permanentemente lontani dalla famiglia è un sistema che corrompe l'istituto della famiglia. Perché questi padri devono emigrare? Per dolorose necessità economiche. Ma le necessità economiche non sono calamità naturali come i terremoti. Sono scelte. Un capitale che fugge all'estero. Una fabbrica che non si impianta al sud. Un bambino che cresce senza il padre. Che curiosa ma ineluttabile concatenazione. Ho cantato una canzoncina e io non ho capito niente. Adesso tu me la ripeti in pugliese e poi traduci. Dunque come comincia? Quella là mi ho fatto un bar di... Dimela in pugliese com'è? Mi ho fatto per zambi. Ecco, dilla bene. Dilla bene in pugliese com'è? Ecco, adesso spiegami in italiano cosa hai detto. I sambetti sono quelli là che si fanno con lo spe... con lo spago. Grazie.